70 stampe in bianco e nero a firma del fotografo veronese Vittorio Rossi, datate ottobre 1989 e marzo 1990. Il tutto per raccontare un evento davvero importante per il mondo, l'Europa, l'Italia, ovvero la caduta del muro di Berlino. Racconta tutto questo la mostra Mr. Gorbachev Tear Down This Wall, allestita nell'atrio di Palazzo Barbieri, realizzata dall'associazione culturale River Primavera Urbana, in collaborazione con gli amici dei musei civici e il comune di Verona e con il sostegno della comunità ebraica di Rotary Club, la società letteraria Diplomarte e Scripta Editore. L'idea di fare la mostra è derivata proprio da una riflessione di questo tipo, cioè sono passati 30 anni, è un anniversario importante, non volevamo però che fosse soltanto un momento celebrativo e dunque ci siamo interrogati, noi che di anni ne abbiamo più o meno 30, su quale fosse il significato della caduta del muro oggi. E anche in questo senso abbiamo deciso di ricorrere al patrimonio fotografico ricchissimo e prezioso di Vittorio Rossi, che è un patrimonio fotografico che ci mostra un mondo subito prima e subito dopo la sua fine, in una fase di transizione, non sono foto fatte apposta quando è caduto il muro per andare a Berlino a vedere ciò che stava accadendo, ma fatte durante un viaggio che nulla aveva a che fare con la politica, con la storia, ma era semplicemente un viaggio di famiglia, subito prima la caduta e subito dopo, in una Berlino in cui anche attraverso i bianchi e neri di Vittorio Rossi si respira un'aria di trepidazione, un'aria di qualcosa che sta arrivando anche se non si sa ancora cosa. Curata da noi Jessica Laufer e da Pietro Giovanni Trincanato, l'esposizione è anche parte fondamentale del progetto didattico che vede coinvolti alcuni studenti degli istituti superiori veronesi, i quali dopo qualche incontro formativo sul periodo faranno da guida i propri compagni nella visita alla mostra. Abbiamo deciso di organizzare, associato alla mostra, un laboratorio con cinque scuole di Verona, più di 30 studenti delle ultime classi delle scuole superiori, affinché siano loro ad accompagnare i loro compagni di classe in visita in mostra e perché un'altra generazione, quella che è nata dopo il 2000, per cui per i quali il Muro di Berlino è storia molto remota perché la loro storia immediata sono le Torri Gemelle, ecco, vedere anche loro come si relazionano con un evento così sconcertante che ha visto in pochissimi mesi crollare un mondo, un sistema, non soltanto un regime ma anche un'intera società e aprire lo spazio a quella che è l'Europa che noi oggi conosciamo e chissà per quanto. Grazie.